E' la prima volta e l'amarezza è ancora più grande perché io sono nata in questo quartiere e io ho sempre vissuto tranquillamente ed è veramente un'amarezza grande. E' tanta l'amarezza che si legge negli occhi di Cristina Celsi, presidente dell'associazione di volontariato sottosopra dopo il furto subito nella notte tra sabato e domenica quando Dei Balordi, passando da una porta di collegamento con la scuola dell'infanzia di via Rubicone nel quartiere San Donato a Pescara, si sono introdotti nella sede dell'associazione prelevando una chitarra, una pianola, un mixer e una macchinetta del caffè. Distrutta anche la Smart TV che i ladri non sono riusciti a scardinare dal muro ma che nel tentativo di furto è andata irrimediabilmente distrutta. Quando siete venuti qui il giorno dopo il furto qual è stato il primo pensiero? Il primo pensiero è stato che mi hanno chiamato le due di notte la polizia dicendo che avevano fatto un furto in associazione, avevano danneggiato la TV e tutte queste cose qui ed è stata proprio amarezza e un senso di violazione, come se avessi subito una violenza. Adesso abbiamo ripulito tutto, abbiamo tolto tutte le cose che sono state buttate per terra e soprattutto il danno affettivo è anche quello per i ragazzi, insomma, perché erano strumenti utilizzati dai ragazzi. Diventa difficile, insomma, diventa veramente complicato. Mi aspettano in quest'ora per formalizzare la denuncia e hanno recuperato una parte di refurtiva. Siete fatti un'idea di chi può essere stato? Perché è stato fatto tutto questo? Non lo so, secondo me è più che altro un atto di vandalismo che altro, insomma. L'associazione Sottosopra da oltre dieci anni si occupa di disabilità nel territorio di Pescara attraverso laboratori, campi estivi, corsi di formazione e altri servizi. Dal microfono del Tg8, la presidente Chelsea lancia un appello ai cittadini perché aiutino l'associazione a ripartire anche attraverso il 5 per 1000 le donazioni sul conto IBAN dell'associazione presente sul sito di Sottosopra. Se c'è qualcuno di buon cuore che ci vuole aiutare a riacquistare questi strumenti e anche a mettere un sistema di allarme per evitare successivi furti, insomma.